facevo l'imbianchino e siccome il lavoro non mi appassionava un granché mentre dipingevo col verde la parete che il cliente mi aveva ordinato di fare gialla io fantasticavo e e tra le altre cose tra le altre fantasie anche inventavo brevettavo il primo primissimo spunto è stato quando che una volta si portava una bicicletta dal meccanico si saliva su una bicicletta su cui si pedalava e l'altra si teneva con la mano destra allora ho capito che avendo una base d'appoggio a superiore alle due ruote è chiaro che si sta si sta un po meglio a sto punto anche qualsiasi motocarro avrebbe una base d'appoggio superiore però quello non si inclina in curva avendo la capacità di inclinazione in curva e contemporaneamente una maggiore base d'appoggio al terreno è evidente che da un viaggio più stabile più sicuro bello brevettata dopo anni perché io una volta che ho avuto la prima idea ci ho un po pensato prima pensavo una specie di sidecar poi ho trovato che la soluzione migliore è quella delle due ruote anteriori è stata una bellissima soddisfazione quella di vedere dopo tanti anni il mio brevetto circolare sulle strade anche se era scaduto da un punto di vista legale e dopo una grandissima soddisfazione l'ho avuta quando il signor balestra e all'epoca c'era il signor gabellieri che mi hanno trovato sulla rivista motociclismo e mi hanno telefonato e ma e mi hanno fatto questa proposta che allora vuol dire che hanno riconosciuto che qualcosa qualcosa ho fatto nella vita che mi hanno trovato la prima volta che ho trovato la prima volta che ho trovato la prima volta che ho trovato